Operazione Anteo nel Soveratese. Spazio di droga, armi e furti molto violenti. 30 gli arrestati hanno tutti fra i 25 e i 40 anni. Non riguarda solo la solita professionalità che dimostrano sul campo, ma questa indagine che la serie continua di quasi ogni settimana dal 2021, ma ho voluto rimarcare la grande sensibilità che i carabinieri hanno avuto nel fare questo lavoro perché sono andati proprio a cercare di contrastare anche il traffico del taglio perché questi spregiudicati si sono messi davanti ai certi a vendere droga. Ho fatto l'esempio come ad un diabetico che gli regali dei cioccolatini. E quindi è importante perché il dramma della tossicodipendenza che riguarda tante famiglie spesso viene messo in secondo piano rispetto alle grandi indagini alle quali siamo abituati. Anche questa è un'indagine importante, non solo perché è collegata con famiglie di indrangheta di Serie A, penso ad esempio ai Giorgi di San Luca, penso ai pizzati di San Luca, famiglie che sono nei circuiti internazionali, ma anche arsenali di armi comuni e da guerra. Quindi vuol dire che ci muoviamo in un contesto criminale che riguarda tutto il territorio che sta attorno a Soverato. Però la cosa che mi preme in questa occasione, che più mi ha colpito, è il fatto di aver fatto violenza su anziani, diciamo meglio sui vecchi, che vanno a casa a picchiarli, a vessarli, a rubargli fucili, armi. Quindi immaginate il vecchio cacciatore che ha il suo fucile che tiene come una reliquia, arrivano due spregiudicati, li rompono in casa e gli rubano le armi. Immaginate il trauma per i prossimi 10-15 anni, quanto vivranno questi vecchi che si porteranno addosso. Oppure questi giovani che tentano, che sperano, che sognano di uscire dalla tossicodipendenza, ti arriva lo spregiudicato davanti al CERTE, ti offre a 20 euro un grammo di eroina. Allora queste per me sono indagini importanti, esattamente quanto le indagini che riguardano famiglie di Indrangheta che si rapportano con Mezzomondo. Quindi ancora grazie Carabinieri. Sì, nel corso dell'attività di indagine sono state registrate, diciamo, delle condotte censurabili anche da parte di esponenti delle forze dell'ordine. Siccome questa indagine ha la caratteristica di operare sul territorio attraverso le articolazioni dell'arma dei Carabinieri, le stazioni dei Carabinieri, che hanno quella capacità di contrasto di gruppi che hanno una conoscenza specifica del territorio, ecco che poter fare affidamento su esponenti delle forze dell'ordine che assicurino la loro fedeltà, diciamo, è essenziale. In questo caso gli stessi Carabinieri sono riusciti ad individuare soggetti al loro interno che invece di operare per contrastare le attività illecite, agivano, diciamo così, per eludere le investigazioni nei confronti di determinati soggetti proprio con riguardo alle condotte illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti che erano oggetto delle indagini da parte dei loro colleghi. Quindi è essenziale questa possibilità di vigilare all'interno della stessa forza, della forza di polizia, in questo caso i Carabinieri, da parte dei Carabinieri stessi. È una condotta che ci capita di registrare in diverse occasioni, ultimamente nelle indagini che sono state di recente citate con delle misure cautelari, in alcuni casi sono stati interessati anche esponenti delle forze dell'ordine e anche in questo caso è capitato. Il procuratore Nunacosca che comunque rappresentava una sorta di collante con altre organizzazioni che erano attive anche in altri territori? Sì, la caratteristica di questa organizzazione criminale è proprio quella di costituire un anello di collegamento tra le organizzazioni criminali che operano nel traffico di sostanze stupefacente della costa ionica calabrese e le organizzazioni criminali che operano nella costa tirrenica. Per quanto possa apparire una organizzazione criminale periferica e territorialmente è oggettivamente un'organizzazione che opera in un ambito periferico, era strategica nel spaccio, nel traffico di sostanze stupefacente che attraverso il canale di rifornimento della parte ionica, in particolare dell'area della Locride Regina, riusciva a far arrivare lo stupefacente ad esponenti di organizzazioni criminali che operano nel territorio tirrenico, sulla costa tirrenica e nella provincia di Ibovalenza e che gravitano nelle organizzazioni criminali intorno alla famiglia Mancuso. Così come il canale di rifornimento prevalente di questa organizzazione criminale nell'Ocride era costituita dagli esponenti, dalle nuove leve se possiamo così definirle, delle famiglie che tradizionalmente operano nei contesti indranghettistici della Locride, in particolare la famiglia Giorgi e Pizzata. Possiamo considerarlo di fatto un asse tra questi due ambiti territoriali per quanto riguarda il traffico della sostanza stupefacente. La caratteristica è che, potendosi avvalere di percorsi, di tragitti, di piste, diciamo così, inconsuete al traffico del quotidiano e nell'entroterra, diciamo così, nelle aree interne della provincia tra Catanzaro e Vibovalenza, erano sicuri di poter sfuggire alle investigazioni stesse. E allora per questo occorre sottolineare l'importanza dell'intervento nelle investigazioni delle articolazioni periferiche delle forze di polizia, in questo caso delle stazioni dei Carabinieri, perché la capacità di conoscere il territorio delle stazioni dei Carabinieri consente di effettuare quel contrasto efficace alle attività illecite che si alvalgono proprio del legame con il territorio. Ripeto, la genesi dell'indagine, l'attività nasce dal dover porre un freno, quindi correre contro questa emergenza che c'era dei furti, soprattutto nei confronti di persone anziane. Da qui poi ne nasce, avviando un'attività tecnica, come diceva prima il procuratore, ci si rende conto che in realtà non c'è solo un'associazione dedita ai furti, ma in realtà c'è un'associazione dedita al traffico di armi, ricettazione e traffico di sostanze e stupacente di ogni genere. Quindi ribadisco il concetto di prima perché la ferocia di questi soggetti nel recuperare queste armi, ma nello spacciare sostanze stupacenti a poco prezzo, ma che creano una forte dipendenza. Le perquisizioni abbiamo rinvenuto, come dicevo prima, diversi della sostanza stupacente, infatti il soggetto è stato tratto in arresto, è anche del 7-8 mila euro in contanti. Dallo spazio erano interessate anche scuole minori? Scuole durante l'attività no, minori qualcosa sì, purtroppo sì. Per quanto riguarda i furti invece nelle abitazioni? I furti nelle abitazioni, loro sostanzialmente erano finalizzati alla ricerca di armi, però come diceva il suo connello, rubavano di tutto, cioè se commettevano un furto all'interno di un'abitazione dove c'erano anche dei materiali per la lavorazione edile oppure dell'agricoltura, loro portavano via tutto. Infatti hanno messo in ginocchio diversi piccoli imprenditori al quale magari è stato portato via il camion con gli attrezzi da lavoro che utilizzava giornalmente e quindi hanno messo in ginocchio diverse persone.